Ciao a tutti amici, benvenuti a un'altra meravigliosa parabola che Gesù ha raccontato ai suoi discepoli e a tutti quelli che lo ascoltavano. Gesù faceva così, ve l'ho detto, lui usava le parabole come metodo didattico, catechetico, ed è bello perché anche per noi queste parabole oggi ci rivelano il cuore di Dio, ci fanno capire pian piano le sfumature del carattere di Dio, di chi è, che cosa vuole da noi, di quanto ci ama. E oggi guardiamo la parabola, la parabola del banchetto nuziale, o la parabola tosta, attenzione, prepariamoci. E dice così, siamo in Matteo 22 dall'1 al 14. Gesù riprese a parlare loro in parabola e disse Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma costoro non se ne curavano e andavano chi ha il proprio campo e chi ha i propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai suoi servi, il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai corcicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si rimpì di commensali. Il re entra per vedere i commensali e scorto un tale che non indossava l'abito nuziale gli disse Amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutò lì. Allora il re ordino ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori, nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Ebbene, in questa parabola che è tosta, Gesù riprende di nuovo un discorso che è quello dell'altra volta, quello del regno dei cieli, ma allo stesso tempo è ancora un discorso che si rifà alla fine del tempo. Di come il regno dei cieli è qualcosa che dobbiamo assimilare oggi, perché questo determinerà il nostro giudizio finale. Anche qui lui parlava davanti alla presenza di tanti religiosi del tempo, farisei, sadducei, scribi, dottori della legge, che lo seguivano, lo stavano studiando. Perché? Perché questo personaggio, Gesù, questo maestro, questo rabbino, attirava folle enormi. Ovviamente il sinedio voleva capire chi era. E questa dottrina nuova, così affascinante, ma anche così pericolosa, da un certo punto di vista, per l'establishment religioso, insomma, andava seguito. E Gesù lo sapeva. E Gesù ne ha avute contro i farisei e l'establishment religioso. Vi ricordo solamente quando è entrato a Gerusalemme e cosa ha fatto al mercato del tempo. Perché? Perché? Perché purtroppo lo spirito religioso è quello più duro da scalfire, quello più difficile ad accogliere il regno dei cieli e soprattutto era un ostacolo per il popolo che li seguiva e quindi era escluso anche loro, a causa dell'esempio negativo, dall'accedere al regno dei cieli. Gesù li affronterà spesso, chiamandoli ipocriti, sepolcri biancati. Ma andiamo avanti. Anche qui appunto parla del regno dei cieli. E che cosa dice? Parla di un re. Questa era una realtà purtroppo ben nota agli israeliti del tempo. Essere sotto un re, avere un re, non era sinonimo di armonia pace. Ci sono stati brevi momenti dove gli israeliti hanno avuto dei bravi re, ma purtroppo se vi leggete il libro delle cronache dei re, la lista di re che non facevano la volontà di Dio e che quindi facevano cose orribili, traviavano il popolo, è lunga. Poi in quel tempo erano sotto un altro re, Cesare. C'era l'impero romano che umiliava gli israeliti, gli ebrei, li trattava male, li perseguitava. Anche se l'impero romano, voglio ricordare che appunto è stato unico nel suo genero, non schiacciava subito, anche se ovviamente aveva la mano di ferro. Aveva tutto un metodo, un'autologia che gli ha permesso di sopravvivere mille anni. E Gesù lo sapeva, adesso ve lo dirò. E quindi parlava di questo re, di questo regno dove a tutti era ben noto che il re aveva potere di vita e di morte. Era colui che determinava la vita di tutti i sudditi. Non era uno qualsiasi, non era un ministro delle finanze, no, era il re, il re, che decideva per la morte o per la vita, per il benessere o la carestia della popolazione. E questo ci fa capire anche che questo modello che Gesù propone per parlare del regno dei cieli si faceva al vero regno. C'è un regno vero. Non è solo una parabola. Il regno di Dio è un regno vero dove il re esiste ed è Dio. Non è una democrazia il pardiso. Noi non andremo a votare la cosa che il popolo sembra migliore e poi Dio la fa. No, Dio stabilisce ciò che è bene e ciò che è male. E noi dobbiamo credere al nostro re. Il cristianesimo parla di una monarchia, però una monarchia giusta, una teocrazia se vogliamo. Non certo una dittatura, però i requisiti del regno sono quelli di un re. Quindi la sua parola è la parola definitiva. Il bene e il male non è in noi, non siamo noi a stabilirlo. Noi dobbiamo solo aderire al bene che è già stato scritto dal nostro re, il creatore dell'universo. E se lui dice che una cosa è male, dobbiamo crederla. Non dobbiamo dibattere su questa cosa qua. Il nostro compito è solo quello di aderire al re e al regno, affinché il re entri in noi e scopriremo che tutto ciò che lui ha decretato è quello che anche noi crediamo e vogliamo. Ecco la differenza tra i regni del mondo che impongono le cose e il regno di Dio che invece conquista i cuori delle persone. E insomma ci sono dei personaggi in questa storia. C'è il re che chiaramente è Dio, c'è il figlio del re che si sposa, che ovviamente è Gesù anche se in quel momento ovviamente non l'avevano ancora capito ma parlava di Gesù. E ci sono queste nozze, nozze, simbolo anche questo molto comune nella mente degli ebrei. Festa, gioia, momento di svago, momento di bellezza, di unione, di amicizia. Ci fa capire che Dio vuole festeggiare con noi. Non è un Dio che ci mette le tasse, è un Dio che vuole che festeggiamo con Lui la gioia della salvezza, la gioia della vita eterna. E noi siamo invitati. Eccolo qua. Punto uno. C'è una chiamata. Una chiamata a queste nozze. La nostra vita con Dio è una chiamata. Che cosa fa Dio? Ci chiama. Attraverso la sua parola, che è Cristo, Lui ci chiama a venire a Lui. Cosa vuole Dio? Dio vuole che noi andiamo a Lui per fare cosa? Per gioire della vita eterna che ha preparato per noi. Queste nozze sono proprio l'unione con Dio, il Paradiso, la vita eterna, l'amore eterno tra Dio e la sua creatura che finalmente si uniscono. E Gesù è il mezzo, il mezzo che ci permette di ricongiungersi a Gesù, a Dio. Guardate, una cosa che è facile da capire del peccato è che ci ha separati da Dio. Dentro di noi c'è questa tensione a tornare a Dio, a tornare a Colui che ci ha creati. Da dove veniamo? Veniamo da Dio. Cosa possiamo fare? Torniamo a Dio. È già dentro di noi questa tensione come una calamita che due magneti che si attirano. Non è così. Noi viviamo la nostra vita, cerchiamo di soddisfare i nostri vuoti dentro di noi, ma niente sembra soddisfare. Perché? Perché solo Dio, l'incontro con Lui, può soddisfarci. Lui ci ha creati. Che cosa vuoi da noi, Dio? Dimmelo. Ecco cosa vuole il mio cuore. Che parliamo con Dio. Non è così, fratelli e sorelle. Ebbene, questa è la natura di Dio. Lui ci vuole ricongiungere a sé. Vuole che torniamo a fonderci con Lui. Da Lui siamo usciti e da Lui dobbiamo tornare. Solo questo conta nella vita. E Gesù è il mezzo. E qui viene narrato attraverso queste nozze. Quindi è un momento di gioia. Attenzione. Questa chiamata all'inizio non è per tutti. Se notate, Lui invita i commensali più autorevoli. Ma cos'è? Che Dio fa una distinzione. Non è esattamente così. Però nella scelta di Dio, nella scelta di Dio, nel metodo che Dio ha usato per salvare il mondo, all'inizio Lui si è rivolto a Israele, al popolo santo, il popolo che Lui si è scelto. E quindi Lui per primo ha progettato di portare il messaggio della salvezza. E così è stato. Gesù era un ebreo. Gesù stesso disse devo prima portare il mio messaggio alla casa perduta di Israele. Dopo però abbiamo visto che il Vangelo si è sparso ovunque. Infatti poi cosa succede? Che verrà annunciato anche ai lontani, ai gentili. Ma soffermiamoci sulla prima chiamata. C'è una prima chiamata alla quale però c'è un rifiuto. Cosa succede? I servide re vanno ad annunciare a questi notabili, questi proprietari, questa gente privilegiata, che ci saranno le nozze. Ma loro non gli interessa. Attenzione. Intanto i servi vengono chiamati doulos. Doulos è un termine che in greco significa persone completamente legate alla volontà del proprio padrone. Ed è bello questo perché figura di cosa? Dei profeti, dei servi di Dio, di persone totalmente votate alla causa del loro re, che vanno da queste persone, che però etelon, che significa in greco è un attivo indicativo. Cosa vuol dire? Un rifiuto attivo. Non è solo non possiamo, è noi non vogliamo venire. C'è una volontà determinata a dire no a questo invito. E c'è una seconda chiamata. La scrittura dice che rimandò di nuovo i servi a chiamarli. Si faceva così a quel tempo, lo sapete? Il re, il signore del posto, all'inizio annunciava in maniera generica, magari in senso una data precisa, che ci sarebbero state le nozze affinché poi i suoi propri sudditi sarebbero stati pronti. Gli diceva guardate che ci sarà in questo mese le nozze di mio figlio, la grande festa, preparatevi, siate pronti, tenetevi liberi. E dopo mandava di nuovo i servi con la data precisa, l'invito preciso. Funzionava così. Anche qui ci sono due chiamate. C'è una prima, se vogliamo, generica, e una seconda precisa. Ma anche alla seconda, dopo che hanno avuto il tempo di prepararsi, questi sudditi dicono no, noi non vogliamo venire, abbiamo le nostre cose da fare. In un altro passo che narra un po' di questa parabola, non mi ricordo in quale Evangelo è, dice uno disse devo andare a comprare un campo, che è una cosa ordinaria, ma come? Ci sono le nozze del figlio e tu vai a fare gli affari tuoi. Un altro ha detto guarda, devo vedere dei buoi, se sono buoni o no. Dopo averli comprati, dice, cura comica anche quella parabola, magari la faremo. Un ultimo dice guarda, in quella data lì ho deciso di fissare il mio matrimonio e ma come? Il re che ha autorità di vita e di morte ti invita e tu trovi scuse, perché erano chiaramente scuse, per fare altro, per vivere la tua vita. Dio viene nella tua vita, col Vangelo del Regno ti porta e ti presenta suo figlio morto sulla croce per salvare te dall'inferno e tu ma io devo pensare alla mia carriera, alla mia famiglia, io devo pensare alla spesa, a comprarmi la macchina, a essere sui social, non ho tempo, mi dispiace, per il Vangelo. lo dice a colui che ha potere di vita e di morte sulla tua vita. È incredibile a volte come le persone che bestemmiano lo fanno utilizzando il cuore che dentro di loro batte, che Dio fa glielo battere, il cuore, non sono loro che dicono ah no ma sono io a far battere il mio cuore, no, gli batte dentro, chi sa come mai batte quel cuore lì e usano queste forze di questo cuore che batte e che Dio gli ha dato per dire io non credo in Dio, io non credo nel Signore lo bestemmio con quello stesso cuore. Se fossi Dio io gli direi fermati cuore, ma io per fortuna non sono Dio, no ovviamente non lo farei, però pensate a quanta pazienza, a Dio con noi che ci ha dato tutto e noi non abbiamo tempo per Lui e magari moriamo domani e la nostra vita sarà giudicata per la nostra inettitudine. Andiamo avanti, arriva questa seconda chiamata, loro rifiutano con delle scuse e addirittura pecchiano questi servi, questi doulos e alcuni li uccidono e qui il riferimento è chiaramente alla fine che facevano i profeti che venivano uccisi quando Dio li mandava e soprattutto a Cristo stesso se voi notate lui è il grande servo del Signore che noi abbiamo inchiodato su quella cosa, il figlio stesso di Dio che è venuto ad annunciare la pienezza del Vangelo noi lo abbiamo ammazzato perché ci dava fastidio e da lì a poco i farisei che iniziavano a capire il senso di questa parabola avrebbero fatto così. È bello come il Signore anche a noi ci ha fatto tante chiamate, ci ha preparato, non c'era più una scusa per dire non lo sapevo, uno potrebbe dire ma non lo sapevo, no lo sapevamo è tutta la storia dell'umanità che Dio prepara l'uomo all'incontro con suo figlio. Anche il periodo storico, ecco perché vi accennavo ai Romani, era preciso, perché a quel tempo avrebbero compreso bene come funzionava un regno perché c'era già un regno, l'impero romano, l'impero più fiorente del mondo. Gesù ha usato quel tempo storico per incarnarsi, perché l'anno zero e non mille anni prima o mille anni dopo, perché in quel tempo tutti avrebbero capito che cos'era quel regno dove un solo uomo, Cesare, quello che diceva si propagava su tutta la terra. Funzionava così l'impero romano, dove se diventavi cittadino romano ai confini del mondo avresti avuto gli stessi diritti del cittadino che abitava a Roma. È incredibile, Gesù ha scelto, Dio ha scelto quel tempo storico, quel contesto sociale dell'impero romano affinché chi ascoltava la sua parabola al suo regno avrebbe detto ah ma allora funziona così, eh? Incredibile. E Dio ci ha sempre preparato il suo incontro. Ecco perché siamo inescusabili. e così la vendetta e il giudizio di Dio arrivò appunto su questi uomini a parabola e arriverà su tutti. La nostra durezza di cuore verrà giudicata perché Dio è buono ma è anche giusto. Se non fosse giusto non sarebbe buono e se noi abbiamo scelto di dire no avremo il nostro no e sarà terribile. Ecco perché non dobbiamo scherzare sulla chiamata di Dio. È una cosa seria c'è la nostra anima in ballo. E il re in questa parabola cosa fa? Allora dice i servi dopo aver ucciso questi assassini e fatto giustizia dice bene allora loro li lasciamo perdere andate i crocicchi dell'estate e prendete tutti quanti poveri ricchi sani malati portatevi alle nozze del mio figlio ed è bello perché questo è proprio quell'annuncio che da Israele si diffonderà poi in tutto il mondo il messaggio non sarà più un messaggio di salvezza per un popolo come pensavano a quel tempo ma è per tutti tutti i gentili noi siamo i gentili non siamo ebrei eppure abbiamo ricevuto le promesse di Israele per la nostra vita e cosa succede? Che allora li fecero quasi li spinsero dice il termine li spinsero dentro la festa e poi qui però succede qualcosa di particolare perché dice che a un certo punto dopo che la sala si è riempita di commensali che bevevano mangiavano si divertivano e festeggiavano i re loro neanche potevano immaginare di essere una festa del genere no? quanti di noi diranno come ho fatto ad andare in paradiso qui però Gesù accenna a un episodio strano dice il re venendo vide uno uno dei commensali che aveva ancora il vecchio vestito non aveva il vestito della festa e disse come hai fatto a venire in questo stato vattene fuori io all'inizio ho detto ma come questo qui magari è un poveraccio non ci aveva i vestiti quindi che colpa ne aveva è venuto così com'era ma poi la cultura ebraica del tempo e tutta la cultura del tempo sapeva bene invece che quando si andava a una festa il re stesso il sovrano il padrone del posto spesso offriva i vestiti per la festa erano vestiti di grande ricamo affinché tutti si sentissero eleganti anche i meno abbietti e così questo re ha dato i vestiti adatti per la festa ma quest'uomo l'ha visto e ha detto ma no sto così come sto ha profondamente offeso perché è rimasto con i suoi vestiti sporchi mentre gli era stato offerto il vestito pulito ed ecco perché questo re si indigna perché se anche veniamo chiamati alla salvezza quando non ce la meritiamo dobbiamo esserne degni dobbiamo accogliere la santità di Dio affinché essa ci trasforma non possiamo continuare ad avere la vecchia vita ma dire di credere in Dio è una cosa seria il regno dei cieli il paradiso la salvezza di Cristo questa veste bianca pulita la dobbiamo mettere Dio ce l'ha offerta ma se noi continuiamo a sporcarla con i peccati oppure non la vogliamo neanche questa preferiamo la nostra vecchia vita beh saremo cacciati dalla festa e dalle nozze perché Dio invita tutti sì ci dà anche i mezzi per essere adeguati alle nozze del figlio al paradiso ma sta sempre a noi dire sì lo voglio voglio la nuova vita oppure voglio la mia vecchia vita ma non ci sarà spazio per noi per là ma guardate il cuore di Dio Dio ci vuole tutti ci offre anche la possibilità ci chiama più volte non resistiamo al Signore ecco un po' per concludere il senso di questa parabola Dio ci vuole a tutti i costi non rifiutiamo questa chiamata non sappiamo quanto vivremo se moriremo oggi o domani o fra 50 anni ma non possiamo essere così stolti da rifiutare queste chiamate così a lungo protratte nel tempo da Dio ci hai chiamato tante volte diciamo di sì oggi sì Signore me lo metto questo vestito lo voglio perché io ti amo non perché mi costringi perché sei la cosa che ho sempre cercato nella mia vita io non ero neanche degno di entrare alle tue nozze lo riconosco ma accorgo questo dono e voglio far parte della tua festa per sempre perché ti amo Amen bene se facciamo questa priera dentro di noi oggi sarà per me una festa non solo lassù in paradiso ma già qua sulla terra vivremo le nozze dell'agnello quindi forza fratelli e sorelle rimbocchiamoci le maniche lasciamo che lo spirito di Dio ci rinnovi di giorno in giorno e portiamo questo invito a tutti quanti sì perché sapete chi sono i prossimi servi che porteranno l'invito a chi è lontano noi ecco il nostro scopo nella vita portare agli altri l'invito alle nozze affinché tutti siano salvati come siamo stati salvati noi nel nome di Gesù bene iscrivetevi a questo canale se vi piacciono queste parabole questi racconti diffondiamo il Vangelo di Dio ma noi ci vediamo la prossima volta vi voglio tanto bene tanto davvero che dirvi strabile ciao 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 ciao